comunque tenetene conto che ci sono dei piccolissimi riconfiamenti che oltretutto sono fondamentali per dare le espressioni e comunque la bocca a questo punto sarà così qui mi scende qui via e qui mi arriva qua e poi qui invece c'è la l'angoletta e qui c'è il naso questa linea me la tengo e qui l'altra cosa non so se ci fate caso qui c'è una zona indefinita perché il lab nel mentre il labbro superiore in qualche maniera c'è un riflesso chiarissimo qua quasi sempre il labbro superiore è definito arriva fino a qui quest'altro in genere parte un po meno in maniera un po meno definita ok col chiaro scuro però poi lo vedremo col chiaro scuro secondo disegno le labbra sono più sottili quindi ci abbiamo l'asse asse questo facciamo vita che sta qua questa acqua misuriamo perché vogliamo essere vogliamo fare i precisi ok ci ho seccato e c'è sempre un arco ok dopodiché se la questo era piuttosto pronunciato diciamo che era vagamente non era di una donna bella con le labbra molto carno piuttosto carnose invece facciamo le labbra di un tipo un po nevrotico che c'è labbro superiore molto ridotto e labbro inferiore vabbè qui però dovrebbe perché siccome che lì molto nevrotici non lo buco lo stretto perché tutta questa parte qui serve protegge perché ci hanno sempre la muscolatura contrattano allora tirano tutto tirano pure questi muscoli qui in genere allora ci hanno ci hanno labbra molto più strette diciamo no questo ho fatto un'altra caricatura detto questo qua sopra sempre c'è il pallino qui ci sono praticamente inesistenti questi qui ce ne facciamo uno e uno due e allora ci abbiamo la bocca che fa così 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 e così e le labbra qui il punto qui e va così ci siamo qua sopra c'è sempre questa cosa qui questo è così e qui va così e c'è 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 sempre ok e anche qui le labbra sono per alcuni addirittura il questa è la parte inferiore è inesistente quindi ci sono molte come vedete sono due persone completamente diverse no dopodiché facciamo finta che abbiamo un nero i neri hanno labbra molto carnose molto pronunciate molto voluminose anche allora che anche perché poi in genere questa parte di questa parte del teschio è un po più avanti no allora che sarà sarà che c'è l'asse centrale facciamo una bocca che sia un po più stretta tendenzialmente e la facciamo con un arco molto pronunciato di sopra e con una parte molto voluminosa anche di sotto di sopra ci abbiamo sempre sto giochetto qui glielo stringiamo e qui lo stringiamo troppo facciamolo fino a qui qui c'è questo questo qui e questo da qui questa parte quindi e qui ci sono i due le due parti quindi questa è molto più grossa pronunciata e quindi qui ci avrò questa parte questa parte questo qui e questo qui questi sono tutti molto pronunciati e sotto ce ne avrò uno e due arriva qui arriva qui e anche qui se ne vien in avanti cioè se ne vien in avanti questa è l'ombra sotto le labbra poi le labbra sono qui ok e qui andrebbero così e già con pochi segni si capisce che stiamo parlando probabilmente di un africano e qui e qui e qui e qui e qui e qui